Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Regina dei martiri, che sostenesti più atroci dolori, e compisti nel tuo cuore il più eroico dei sacrifici. Io voglio unire le mie pene alle tue. Vorrei essere vicina a te come San Giovanni. E le pie donne per consolarti della perdita del tuo Gesù. Purtroppo riconosco che anch'io con i miei peccati. Sono stato causa della morte del tuo figlio di letto. Ti chiedo perdono. O madre addolorata. Accetta in riparazione l'offerta che io ti faccio di me stesso. E il proposito di volerti sempre amare per l'avvenire. Metto nelle tue mani tutta la mia vita. Fa che io possa farti amare anche da tante anime. Che vivono lontane del tuo cuore materno. Così sia. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.